Non ci sono più soldi. Tristemente banale la ragione per cui dal 1 agosto potrebbero aprirsi le porte in uscita per 60 ospiti dell'Istituto di Assistenza San Giovanni Battista in piazza Garibaldi a Chieti. I quasi 6 milioni di euro di disavanzo dell'ASP, l'azienda pubblica di servizio alla persona, fanno calare la scure sugli istituti riuniti di assistenza San Giovanni Battista ex case di riposo. Mancando i fondi, la struttura non è più in grado di assicurare l'assistenza ai pazienti, anziani non autosufficienti, portatori di handicap e disabili psichici. Per non aggravare il deficit è stato sollecitato l'adeguamento delle rette da parte della regione, visto che la cifra erogata dalla ASL è di circa 80 euro al giorno per assistito, a fronte di un costo reale che ammonterebbe a 120 euro. Queste rette sono state stabilite nel 2002 e mai aggiornate ad oggi e nemmeno da un punto di vista degli adeguamenti istati. Quindi siamo effettivamente con dei costi notevolmente superiori a quelli che ci vengono riconosciuti, anche se in forme molto diverse e non sempre incassiamo con l'immediatezza. Di fronte a questa criticità, a questo punto di rottura, noi inviteremo tutti i familiari o gli amministratori di sostegno degli ospiti a provvedere nella loro autonomia, a ricollocare in maniera diversa i propri ospiti in modo da potergli garantire quell'assistenza sanitaria che a noi sembrerebbe ormai a rischio e alle ultime ore. Secondo il presidente del CDA dell'ASL, Concezio Tilli, questa emorragia tuttavia è ancora sanabile o con l'aumento delle rette, ma la regione non ha fornito rassicurazioni in tal senso, o con la trasformazione dell'istituto in residenza per anziani autosufficienti, che comporterebbe un risparmio significativo sulla spesa giornaliera per medici, infermieri e operatori sociosanitari. Certo, un prezzo ci sarebbe, anche se non direttamente quantificabile in euro. A pagarlo sarebbero quei 60 pazienti anziani non autosufficienti messi alla porta per necessità dal 1 agosto. Dove andranno? C'è un problema che vi riguarda o no? Sicuramente è un problema che ci riguarda da un punto di vista morale, da un punto di vista amministrativo, ma non possiamo sottacere che lo dobbiamo anche analizzare da un punto di vista economico. Va anche detto, oggi siamo molto vicini alle 110 di unità di persone assistite, che molti di questi vivono all'interno da questa struttura, da quando erano dei ragazzi bambini, e che oggi sono persone anziane, che quindi hanno fatto una vita al nostro interno e considerano questa struttura una famiglia per il modo in cui si sono ambientati e hanno trascorso un lungo periodo. Dove dovranno essere ricollocati? Beh, io per questo invito in primo luogo gli amministratori di sostegno, ma poi coinvolgendo anche la ASL a dire quali sono le strutture pubbliche o le strutture private accreditate ad erogare uguali servizi. Grazie. 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 Grazie.